Oggi mi vado a vaccinare Adesso chiamo per venutare il vaccino Buongiorno, ambulatore a vaccinazioni, sono Vito, come posso esserle utile? Prodo! Sono Roberta Comini, devo fare il vaccino anti-influenzale Ok, lei la signora ha detto? Roberta Comini sono Allora aspetti che guardiamo la disponibilità in questa settimana Sì, un attimo solo C'è posto venerdì alle 9.30 di mattina Signora? Sì! Le va bene venerdì alle 9.30? Come no! Ha bisogno che un operatore venga a prenderla? Il servizio navetta è gratuito Sì, grazie! Un attimo Sì, allora, guarda, mattina, venerdì ci sarebbe le 1.00 e 21.00 e 8.00 Ok, signora Sì? Allora, venerdì la passa a prendere e le 1.00 alle ore 9.00, va bene? Va bene Va bene, ci vediamo venerdì Va bene, grazie, domani Arrivederci Buongiorno, signora la porta Bravo, Eleonora! Salve, sono l'operatrice che la porterà a fare il vaccino Andiamo? Sì Eccoci qua Ma guida bene piano lei, vero? Certo, non si preoccupi, qua tutta sicurezza, va bene? Va bene Ecco qua L'aiuto Va bene Ecco qua Eccoci qua Perfetto La cintura La sicurezza La sicurezza Corina mi aiuti l'orgetto Ecco qua Grazie Perfetto 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 Andiamo? Guarda piano! Guarda piano! Signora Comini può entrare? Andiamo la compagna E entra? Adesso ci accomodiamo Allora Roberta io la aspetto fuori Va bene, va bene A dopo? Va bene Venga che ci sediamo sulla sedia che c'è la dottoressa Va bene Buongiorno signora Comini Buongiorno Allora signora come sta? Eh le tagli acciacchi Beh adesso siamo qui per risolvere il problema Facciamo il vaccino antinfluenzale Sa che cos'è vero? Sì Sa come funziona Sì Va bene allora Cecilia può provare il materiale Subito Adesso la mettiamo seduta sul lettino E io e Cecilia le faremo il vaccino antinfluenzale Va bene? Va bene E' pronto? Va bene allora facciamo accomodare la signora Roberta sul lettino Subito Venga Roberta Va bene Beata gioventù Eh Ecco qua Qua Mi dia il braccio che così la dottoressa le può fare freddere la puntura Ecco fatto Grazie Prego Adesso Roberta facciamo una punturina veloce veloce va bene? Mi metto i guanti Mi tiene la cella per favore Adesso disinventiamo un attimo eh? Va bene Ecco fatto Sentirà un pizzicottino Adesso mettiamo il cerotto Ecco fatto Grazie Dottoressa Vabbè Farsi la maglia Aspetti aspetti che mi tolgo i guanti Vuoi solo mettere posto lei dottoressa che io vi accompagno la signora Roberta? Sì Adesso andiamo a chiamare la volontaria che la riporta a casa va bene? Grazie Mi vado subito eh così la viene a riprendere Per qualunque dubbio o perplessità può chiamare il numero che ne abbiamo lasciato va bene? Va bene Signora Roberta allora com'è andata? Va bene Andiamo a casa? Sì Perfetto venga che la accompagno, l'aiuto Grazie La lascio in buone mani allora Va bene grazie Sì Grazie Roberta Grazie Andiamo Grazie